Oggi abbiamo consegnato 630 mila firme per il referendum che vuole legalizzare la cannabis, contro l'ipocrisia e il proibizionismo, contro le mafie che si arricchiscono commerciando con la cannabis, contro la cultura della punizione, contro la marginalità, per la sicurezza, per la libertà. Un referendum giusto. Ora occorre mobilitarsi perché si arrivi davvero al voto e perché quel voto lo si vinca.